e adesso andiamo a vedere cosa prendere qua questo è qua ragazzi questo qua ovviamente su Amazon sono 6 non si illumina plastica 12 cm ragazzi questo qua può essere un'artificiale da paura buona ordiniamo acquista ora ovviamente il pacchetto l'abbiamo preso su Prime e mi arriva giorni eccolo eccolo qua le mie meduse velocissimi ok ho ordinato le mie medusette sono arrivate consistenza abbastanza buona devo dire la verità chissà se riesco a prendere dei bass con questa cosa qui ho preso un amo vediamo se riusciamo a fare quel gioco che mi interessa a me sapete ragazzi che potrebbe anche funzionare chissà chissà se la mia cubo medusa a basso può andare adesso staremo a via adesso vediamo come funziona all'interno dell'acqua sono abbastanza curioso di fatto di fatto sarà molto di molto galleggiato bello bello sì questo galleggia di brutto una specie di ravacchietta pazza ed ecco voi ragazzi mettiamo la nostra medusetta e vediamo come funziona e vediamo come funziona a go pro resta video speriamo che affondi e c'è ragazzi c'è e ancora una volta il fatto che si però questa volta tira di brutto ma cos'è un luccio ma non lo so ragazzi la mia medusa 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 se è un luccio è enorme se è un luccio no oh ragazzi come tira come tira sembriamo una carpa e infatti e infatti medusa forever ed ecco voi colpo di culo tremendo e bamba sì ma se ti dico come l'ho presa non ci credi niente anche te ed ecco qua mega stufilone ragazzi ve la faccio vedere cominciate a vedere voi le vostre misure 22 44 quasi 70 ovviamente senza ardiglione la mia medusa non perdona mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e un bel like se il video vi è piaciuto e comprate le meduse mi raccomando ciao un saluto da full tammer pesca a gopro resta video